Un sistema di promozione sociale iniziato ben sette secoli fa è il caso dell'Annunziata, storico luogo della ruota degli esposti di Napoli, così come raccontato da Romina Amicolo che ha realizzato lo studio Filosofie e Politiche di Welfare a tutela dell'infanzia abbandonata, la governance dell'Annunziata di Napoli 1318-1987, un percorso votato a ricostruire l'organizzazione della tutela degli orfani nel capoluogo campano, come spiega l'autrice. Welfare comunitario, c'è un sistema autonomo gestito dalla comunità napoletana che per primo offrì assistenza ai minori. È un libro che attraverso la storia della Casa Santa dell'Annunziata ripercorre quella che è la storia dell'assistenza all'infanzia fino alla chiusura del Befotrofio e affronta la problematica dell'assistenza all'infanzia anche nell'attualità, ponendosi interrogativi che nel corso della storia hanno avuto risposte politiche e giuridiche differenti. La presentazione è stata l'occasione per visitare storie di bambini, mostra di Letizia Galli all'interno della Real Casa. Circa la tutela della situazione di chi è orfano è intervenuta Anna Arecchia, presidente del Comitato Nazionale per il diritto alle origini biologiche. Siamo qui perché il libro si conclude con una pagina bellissima dando voce ai bambini che hanno vissuto una parte della loro vita qui nel Befotrofio dell'Annunziata di Napoli e dare voce a questi bambini significa riconoscere loro il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche. Come Comitato Nazionale per il diritto alle origini noi ci stiamo battendo proprio per far sì che questa legge passi in Parlamento.